Lo ammetto, ci sono delle macchie nel mio passato, ho ceduto a diverse tentazioni che mi hanno cambiato, sono diventato insensibile e riuscivo ad infiammarmi anche per poco. Come un re senza corona che si allontana dalle sue radici, mi muovevo in un ambiente colmo di insidie, zuccheri, acidità, caffè, fumo, cibi e bevande ghiacciate, stavo perdendo lo smalto che mi aveva contraddistinto in gioventù. Ma poi, incontrai lui! Una linea completa per le problematiche dell'igiene orale! Ed allora, mai più sorrisi d'occasione! Finalmente, un'occasione per sorridere!